Ho più volte ripetuto che Taranto sta letteralmente crollando a pezzi, sta letteralmente collassando. È il caso di Via Dante, un'arteria centrale, fondamentale, uno snodo importante. Alcuni giorni fa uno sprofondamento all'altezza della Chiesa del Sacro Cuore, dopo lunghe insistenze rappezzate alla bella e meglio con un po' di asfalto. E guardate qui, la storia si ripete perché non si tratta di semplici sprofondamenti, di semplici buche, ma è un problema più strutturale. È un problema che riguarda proprio la tenuta del manto stradale che non regge, non regge. È ormai così obsoleta che i singoli rappezzi, mettere un po' di asfalto e poi la pioggia e poi le intemperie, tutto quello che si è fatto dopo un po' viene meno, si sgretola, viene vanificato. Guardate qui uno sprofondamento, una conca, lo vedete, una conca proprio. Vedete il mio piede proprio vi disegna come la strada scende e sale. Una conca, bella e buona. Quindi a lungo andare vedrete che arriveremo ad avere una voragine. E allora cosa farà l'amministrazione? Caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, tu ti limiterai a far mettere un po' di asfalto, a rappezzare, per livellare il manto stradale, ma dopo un po', vedete, si sgretolerà di nuovo. Perché si va avanti così, senza programmazione, andando a tappare, come si suol dire, le falle? E questo proprio dall'immagine di un'amministrazione che non sa programmare, che naviga a vista, che vive di toppe e rappezzi. Guardate qui, via Dante, guardate come sprofonda. Dico chiacchiere? Caro Mattia Giorno, mi faceva opportunamente notare l'occhio vigile e attento del mio cameraman, Pino Melucci, che lo sprofondamento finisce anche per creare dei danni alla scocca delle macchine. Perché ovviamente andando a inabissarsi, a precipitare, a scendere di livello il manto stradale, ovviamente la scocca va a strisciare, come si vede qui. Guardate i segni delle macchine, appunto la cui scocca striscia qui. E quindi danni su danni, se si va a creare danno alla scocca, alla coppa dell'olio, tanto chi se ne frega. A proposito, mi domando, ma ho saputo che Melucci ha confermato come assessori, nella veste di tecnici, Manzulli e Mattia Giorno. Domanda, ma Mattia Giorno è un tecnico? Non mi risulta che Mattia Giorno per i lavori pubblici sia un architetto o un ingegnere. Non mi risulta affatto, insomma, per capirci. Una via centrale di Taranto, guardate com'è sprofondata. Questa è l'immagine di Taranto. Di questo siete capaci, signori della corte di Melucci. Mattia Giorno, meno viaggi, meno chiacchiere, meno paraculate istituzionali. Passami questa espressione, pensa ai problemi veri, pensa ai problemi seri, non alla chiacchiera.